La commissaria Marianne Tyson, che è la commissaria responsabile per gli affari sociali e per le politiche del lavoro e per il Fondo Sociale Europeo della Commissione Europea, si è recata oggi a Torino e ha fatto uno splendido dialogo con i cittadini qui all'università, dove è stato possibile mettersi in relazione con i sentimenti e le preoccupazioni reali delle persone per quel che riguarda le attese che hanno per quanto riguarda le politiche del lavoro, le politiche sociali e il pilastro sociale dell'Unione Europea. La Commissione Europea sta investendo moltissimo nei dialoghi con i cittadini, questo era il 242esimo dialogo che il Presidente Juncker e i commissari, come Marianne Tyson, stanno facendo in giro per l'Europa, non solo nelle capitali ma qui a Torino come in altri paesi e in altre città, per mettersi in relazione proprio con la temperatura dei territori e le aspettative delle persone, al di là dei rapporti istituzionali, ma parlando direttamente con le persone. Questa è una commissione politica, quindi è una commissione che ha la necessità di essere sempre in contatto con quelle che sono le aspettative e i sentimenti delle persone per quanto riguarda le politiche europee. Noi riteniamo che questo dialogo di oggi sia stato estremamente fruttuoso, sia per le persone come lo hanno percepito, sia per la commissaria e quindi per la commissione che riporterà a Bruxelles quello che ha sentito e le preoccupazioni e le proposte che sono state veicolate a lei durante un dialogo di questo tipo che non sarà certamente l'ultimo. La Commissione europea ha organizzato la dimensione sociale attorno a tre assi. Il primo asse è dare opportunità alle persone, fornire accesso al mercato del lavoro, educazione, competenze e così via. Si tratta di investire nelle persone per dare loro le migliori possibilità, per afferrare le opportunità presenti. Quindi investire nelle persone, a volte diciamo investire in software. Quando si tratta di competenze digitali si intende che servono le autostrade, eccetera, ma serve anche investire nel software, nelle competenze delle persone. Anche quando prendiamo in considerazione il terzo asse della dimensione sociale, quello che riguarda la protezione sociale, vediamo che serve protezione sociale in chiave moderna, in termini di mezzi forniti quando le persone ne hanno bisogno. Ciò si concretizza in termini di benefit, ma non solo. Occorre investire nelle persone, rafforzarle, dar loro nuove possibilità, accompagnarle con i giusti servizi in modo che possano rimettersi in gioco e capire se sono ancora nell'età lavorativa, se sono capaci di lavorare e in grado di trovare un nuovo lavoro. Quindi, riassumendo, si tratta di investire nelle persone, nel capitale umano. Questo è veramente in cima alle priorità nella discussione.